Guardi, facciamo così, siccome non credo che la stampa internazionale sia interessata a questo dibattito, su questo le rispondo domani mattina molto volentieri. Le dico però una cosa in generale su questo tema che invece può riguardare anche e può interessare anche la stampa estera. Noi abbiamo in questo momento in Italia un problema che mi pare che molti stiano sottovalutando. Abbiamo il problema che c'è e lo abbiamo visto purtroppo accadere anche qui, c'è lo Stato italiano che è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali. Con l'obiettivo di rimuovere un istituto che è secondo me fondamentale al nostro ordinamento penitenziario che è il carcere duro, obiettivo sul quale, al quale punta anche come sappiamo bene la mafia. Le minacce, gli attacchi contro funzionari dello Stato italiano, politici italiani stanno aumentando e mi pare che complessivamente in Italia il dibattito sia su un altro livello.